qui dobbiamo festeggiare per il pareggio ci rendiamo conto siamo obbligati a festeggiare per il pareggio ma di che stiamo parlando noi siamo andati a Roma per portare il pareggio a Napoli rendetevi conto meglio non perdere punti naturalmente perché nelle condizioni che stavamo messi oggi stavamo messi veramente veramente male il raspatore lì davanti non ha strusciato palla non può giocare l'aspatore prima punta ragazzi mi viene da ridere mi viene da ridere perché aveva una ghiotta occasione che il Bologna aveva pareggiato e l'Atalanta va avanti gli altri due punti quindi iniziano ad essere tanti punti persi per strada però già che non è perso un big match vuol dire qualcosa contro la Lazio che vabbè aveva perso 3-0 in Supercoppa naturalmente non potevo pazziare stessa partita della Supercoppa eh signori che dire eh lobotica migliore in campo lobotica migliore in campo eh hostigard eh perché dobbiamo spendere 20 milioni per Perez quando il difensore il difensore ce l'ha in casa solo questo solo questo ma non vuoi più parlare eh ragazzi come detto eh non è giocato a calcio oggi non cioè oggi è giocato per il pareggio ma si è visto si è visto si è visto poi vabbè eh cosa là Ghiere Castellanos che fa il gol della vita cioè è incredibile veramente poi meno male ce l'hanno annullato perché il gol del secolo l'aveva fatto contro il Napoli come sempre come sempre e ragazzi ve l'ho detto oggi dobbiamo festeggiare per il pareggio rendiamoci conto come si è rivoluzionato il tutto dobbiamo esultare per un pareggio e questo è che a me fa rabbi che dobbiamo esultare per un pareggio per come si era messa la partita per come stava giocando il Napoli devi esultare per questo pareggio eh agliù eh continuo a ribadire continuo a ribadire eh mancano le basi le assenze sono tante questo è vero dalla prossima con il Verona ce li avrai un'altra volta a disposizione tutti quasi tutti ritornerà chissà non ci avremo Simeone ma ci sarà Simeone quindi ti può dare una grossa mano in attacco invece Raspatori oggi non ti puoi presentare a Roma l'unica tattica è il cadenaccio dietro e poi provare ogni tanto un minimo di ripartenza e ragazzi siamo morti siamo morti e questo è brutto da dire ma il Napoli è morto il Napoli è morto è sepolto e e l'ho detto io credo ancora di entrare in Champions League io lo sto dicendo da tanto perché il Napoli la squadra ce l'ha per andare in Champions League ma se continui così soprattutto con questo gioco la difesa a tre regge questo nessuno lo mette in dubbio perché in difesa oramai siamo incredibili perché vuoi stasera hai subito gli ultimi minuti non gli hai concesso nulla alla Lazio però vuoi ma manca l'attacco ma in attacco bisogna segnare siamo sterili in attacco ragazzi ora bisogna dare la svolta a questo campionato iniziamo da qui iniziamo e poi ritorneranno tutti sperando che Rosimena se ne esce subito dalla Coppa d'Africa almeno ritorna e viene a fare gli ultimi tre mesi a Napoli da cristiano decente come dovrebbe essere comunque bisogna festeggiare il pareggio rendiamoci conto grazie a tutti